16 novembre 1960 muore a los angeles clark gable a stroncarlo è un infarto due giorni dopo la fine delle riprese degli spostati l'ultima pellicola che lo vede protagonista al fianco di marilyn monroe e montgomery clift nato nel 1901 raggiunge il successo a 30 anni con l'angelo bianco baffetti da affascinante mascalzone nel 1939 è rat butler in via col vento la sua stella inizia a offuscarsi a partire dal 1942 quando sua moglie perde la vita in un incidente aereo da allora suo compagno di vita sarà l'alcol che finirà per portarlo alla morte